Favignana oggi parte da qui in Lega di Rani in Cruze 2024, undicesima edizione, è appena partita il vertical di Santa Caterina, 3 km per arrivare in cima alla croce, domani ci sposteremo all'Evanzo per il trail di Levanzo, 9 km sempre su sentieri, dopo domani, domenica, andremo invece a Marettimo, ci spostiamo tutti insieme, lì ci sarà il trail di Marettimo, 17 km, Tre prove fantastiche, semplicemente perché attraverseremo dei luoghi da favola qui alle Egadi, la gente viene qui non solo per correre, per confrontarsi atleticamente con gli altri, ma anche e soprattutto per conoscere luoghi, conoscere anche i prodotti locali e fare un'esperienza che non è solo una gara ma è un viaggio, Egadi Running Cruze Siamo molto felici con l'amministrazione di aver dato inizio oggi alla Ega di Running Cruze che è giunta all'undicesima edizione, questa manifestazione lega appunto la passione sportiva con la voglia e il desiderio di conoscere e scoprire luoghi nuovi, quindi noi siamo molto grati all'associazione per l'impegno e la loro presenza sempre costante nel tempo e nel nostro territorio.